Alla vigilia di Avelino Brescia, Roberto Boscaglia ha presentato la prima gara del campionato delle rondinelle. Il tecnico dei Bresciani non è soddisfatto dell'esordio sul campo sintetico del Partegno Lombardi, ma si gode i nuovi acquisti e vuole il massimo dai suoi uomini. Siamo contenti che sia arrivata la vigilia, è stato un po' così. Cambio di società, giocatori in arrivo, abbiamo sempre lavorato bene, abbiamo cercato di dare una certa forma alla squadra, che comunque ha, non parlo solo di forma fisica naturalmente, adesso ci sono situazioni così in evoluzione, però stiamo, ripeto, stiamo prendendo forma e quindi sono abbastanza contento. Però adesso noi pensiamo al campo, dobbiamo pensare solo a quello e quindi nella nostra testa c'è solamente la partita di domani sera. Ci sono i punti che contano, il campionato lo sappiamo, è un campionato, ripetiamo le stesse cose, lunghissimo, difficilissimo, dove non c'è una squadra super favorita, così come non c'è una squadra Cuscinetto, Materazzo, come si diceva una volta. Tutte le partite sono molto difficili e bisogna affrontarle con la massima concentrazione, con la massima aggressività, dobbiamo essere consapevoli che tutte le partite, se le giochiamo al 100% possiamo vincerle, ma se non le giochiamo al 100% possiamo perderle. Questa è la realtà di questa categoria e quindi, ripeto, siamo pronti e vedremo domani sera quello che succederà.